Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicolò Baranzini e sono un dottorando presso il Laboratorio di Biologia degli Invertebrati del Dipartimento di Biotecnologia e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria. Mi occupo principalmente di microscopia ottica ed elettronica per lo studio della morfologia di cellule e tessuti e nello specifico lavoro con le sanguisughe che sono il mio modello animale e il mio progetto di dottorato si basa sullo studio di una proteina RNAsi T2 che è una ribonucleasi della famiglia delle T2 che sembra essere coinvolta nella risposta immunitaria e nel rimodellamento del tessuto connettivo. Studiare la funzionalità di queste proteine, di queste molecole in un organismo relativamente semplice come la sanguisuga può essere di notevole importanza per estrapolare delle informazioni che poi possono essere riportate e trasferite a un modello più complesso come può essere ad esempio l'uomo. L'Università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte. L'Università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi. Grazie. 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 Grazie.